All'insegna della stabilità e della tranquillità la situazione politica regionale. Partiti e movimenti si studiano a vicenda e soprattutto tentano di riorganizzarsi a proprio interno per poter affrontare al meglio la campagna elettorale per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. Bocche cuscite sui possibili candidati al vertice, ma le indiscrezioni si rincorrono. Una di queste, se fosse attendibile, sarebbe eclatante e riguarda la coalizione di centrosinistra. Ai probabili candidati circolati nei giorni scorsi, ovvero Giovanni Legnini e Giovanni Lolli, nelle ultime ore infatti è spuntato anche il nome del Presidente uscente Luciano D'Alfonso, l'unico, fanno sapere dal suo entourage, in grado di rivincere nonostante le fughe dal PD di diversi amministratori locali. La mancata scelta di D'Alfonso per Palazzo Madama e il mantenimento del doppio incarico sarebbero propedeutici a una sua ricandidatura. La decisione verrebbe rafforzata da un eventuale scontro nel governo gialloverde tra Movimento 5 Stelle e Lega, scontro che, tra l'altro, farebbe saltare qualsiasi ipotesi di alleanza per le regionali tra i due partiti. Intanto, nel centrodestra continua la sfida per incassare la candidatura a Presidente. In particolare, Lega e Forza Italia si contendono il vertice della regione e serrano le file al loro interno. Non a caso, gli azzurri di Nazario Pagano hanno organizzato una grande manifestazione a Pescara per sabato 14 luglio, con la presenza di tutti gli esponenti locali del partito e con il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, fresco di nomina a vice di Berlusconi. La Lega risponde con la visita del capo politico, nonché Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il quale lunedì prossimo sarà a Silvi. Forse a valle di questi due importanti appuntamenti politici si decifrerà meglio lo scenario per le regionali. Il Movimento 5 Stelle, d'accanto suo, ha fatto sapere che sceglierà online, con il voto degli iscritti, sia il candidato Presidente, sia i candidati della lista proporzionale. Al momento, dunque, solo Fabrizio Di Stefano ha dichiarato la sua disponibilità ad essere il candidato Presidente del Centro Destra Unito, che però, al momento, Unito non ha parte.